Ora qui non sta, o non sta, in un' situazione del gobierno cammina che tutto sta lavorando normalmente, non è in questione di acercamento di nada, posso votare in coalizione. Lo che mi chiede è che, l'ultimo 5 di juni, ora che il ministro Becker ha indicato in prensa che è lo che ha per me basso, che non mi ha tanto ora per me basso, eccetera, mi d'accordo sì che il ministro Lamp ha expressato pubblicamente che è una nota di che non sta sostenendo la pronuncia, quindi è per il nostro lavoro di ministro e l'ultimo non è, ma che il ministro non è. Nel momento non è qui, non sa che non lo ha expressato come partei, però mi sa sì che l'ultimo, in tutto il caso non stavo a invitar a l'ultimo. Il ministro Becker ha detto un'on-work-bar situazione del consello di ministro, che non sta riconoscendo, non è che l'ultimo accionare, però se c'è un'ultimo cosa pensa, non è l'ultimo che si spiega a chi ci e le, a dire, che non è appunto di fare un'ismata, ma non è un'ultimo, ma non è, c'è un'anба che, non ti c'è un'allữa ministro, non è, ma non ti c'è un'anba che, non ti c'è un'anba, ma non ti c'è un'anba, stavo a divulgar, che si sta passando un ministro, se c'è un concetto di ministro è che non ti c'è un contenito di comportazione di tutti, ma non ti c'è un'andata a l'alba che non è l'ansificazione della presenza e delle carte che ci sono d'incontrano, non ti c'è un'anba che ci paz обязательно, non si può interagire, per ora che mi si confronta con la situazione, ma che non si tratta di un consello di ministra e non si tratta di decidere il quito e la carte. Quito e la carte è un nuovo, ci sono di nuovo, che si tratta di informare il Parlamento, ma in un'altra parte si tratta di un'escalto, ci sono delle caratteristiche e non si tratta di confie, ma come si tratta di un'escalto, mai sono di un'escalto, Grazie a tutti.